Operazione Mare Sicuro in cifre e numeri. Un ritratto della stagione estiva che analizza tutte le situazioni di pericolo e di non rispetto delle norme alle quali Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e tutte le associazioni di volontariato si sono trovate a gestire in mare. 42 notizie di reato, 58 soccorsi navali, 28.000 controlli, 320 verbali e amministrativi, 6.000 controlli ambientali e purtroppo anche 5 decessi. Sono avuti 5 decessi, però diciamo che 4 sono dovuti ad un annegamento conseguente a un malore, quindi non è l'annegamento, non è la non esperienza del nuoto. Purtroppo l'unico decesso dovuto to cure all'annegamento è proprio di un bambino nelle acque di pasto. Tutto sommato è un'estate che si è svolta in maniera regolare grazie all'azione nostra, grazie alla collaborazione che abbiamo avviato e come sempre abbiamo avuto risposte positive da parte dei vari soggetti privati anche con i quali abbiamo interagito. Una stagione atipica che non ha dato modo di prevedere lo sviluppo della stagione, ma solo la preoccupazione di vigilare e intervenire in ogni situazione, a partire dalle spiagge dove spesso non si percepisce il rischio o dove più si sviluppa il commercio abusivo. Secondo i dati i sequestri hanno interessato oltre 6.000 articoli. Diciamo che a noi non piace fare multe, non piace fare multe perché un elevato numero di sanzioni sa significare perché evidentemente l'attività preventiva non è stata sufficiente a perseguire l'obiettivo ultimo della nostra azione che è quella dell'educazione al rispetto del prossimo e del mare. E infine una considerazione sull'atteso dragaggio che interessa, come sempre, il porto di Pescara. Ci sono dei fondi che consentiranno, spero nel più breve tempo possibile, di continuare a galleggiare, di continuare in questa situazione non certamente ideale, ma comunque tale da consentire lo svolgimento sicuro dell'attività portuale, peschereccio in particolare e anche commerciali. E tutto questo in attesa che trovi attuazione, stiamo andando in continuazione a Roma insieme al Comune e alla Regione, per l'approvazione del piano regolatore portuale, che sarà la cornice nell'ambito della quale poi si muoveranno tutti quegli interventi di modifica delle infrastrutture idonee a far sì che il dragaggio diventi un'operazione da fare sempre, ma in volumi più ridotti e soprattutto con qualità dei fanghi migliore.